la foto percorso 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 e percorso percorso or giudice da vicino o guarda o meglio Matteo ma io non ci sarei mai spolato sul telefono no ma non mi fa proprio lo zumba non hai capito hai fatto i tre dell'Ave Maria no non hai messo sì non voglio mica stare no poverino no amore ti vengo a curare io oltre a sparire guarda che oddio rega sembra che sta a cacare purino guarda è bravo anche senza una gamba riesce a parare tutto ma che cazzo mi frega di Giulio ma guarda che bravo che carino no è sempre lui vado a prendere la palla